Come proteggersi dai furti, specie quelli commessi ai danni della gente anziana, non dimenticando anche che si avvicina il Natale. Su questo punto spesso doloroso per le conseguenze che lascia nelle persone dopo la violazione della loro abitazione, i carabinieri hanno pubblicato il loro vademecum suggerimenti utili contro i furti. Fare attenzione ai segni lasciati vicino casa dai nomadi, una specie di codice che serve dagli altri a far capire che tipo di casa è, chi si trova all'interno, se c'è allarme e quando è meglio fare il colpo. Oltre ad avere spirito di osservazione, una regola generale che non guasta mai, per i militari dell'armo un'altra regola generale è quella di proteggere la casa. L'ideale sarebbe una porta blindata con serratura di sicurezza, antifurto e spioncino, videocitofone o telecamere e dispositivi collegati al 112. Se l'interruttore della luce si trova all'esterno o deve essere protetto con una cassetta metallica per impedire che qualcuno possa staccare la corrente. Un'altra regola vecchia come il mondo è quella di non tenere in casa grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore. Luce e rumore tengono lontano i ladri. Opportuno scambiare i numeri di telefono con i vicini di casa ed assicurarsi che uscendo rientrando la porta di casa e il portone del palazzo restino ben chiusi. Non lasciare i biglietti attaccati alla porta, non far sapere a chiunque che si vive soli né ad estranei i programmi di viaggio e vacanze, evitandoli di pubblicare sui social, evitare l'accumularsi di posta nelle cassette delle lettere e fotografare oggetti di valore per agevolare le forze dell'ordine nel ritrovarli. Se l'atterratura è stata manomessa e la porta è socchiusa, non entrare in casa per non inquinare le prove e telefonare immediatamente al 112.